eccoci buongiorno a tutti e tutte tu usciamoci vi porta in una via cava una tagliata come la vogliamo chiamare dipende dalle zone comunque sa entrambe la stessa cosa che è una chicchetta però diciamo che questa via cava è conosciuta insomma via mira tanto per i locali però forse neanche i locali sanno sanno naturalmente la via cava ripeto non sono mai dritte e poi c'hanno sempre questa queste pareti alte ci sono alcune che sono più alte altre che sono un po più basse alcune più strette alcune più larghe tutto quanto ma dove vi porto adesso che adesso qui vi faccio vedere anche un'altra particolarità che tu dici soprattutto per la costruzione delle vie cave ma perché guardate qua sulla sinistra al di là vedere che c'è il vuoto dove io adesso passerò ma perché tutto sto lavoro quanto potevano tranquillamente passare da quest'altra parte perché tutto questo lavoro allora e adesso proprio dalla parete diciamo opposta dove chiunque potrebbe passare c'è stata la costruzione è stata fatta la costruzione di un colombaglio più meno la stessa cosa che si ripete anche a blera il colombaglio è dalla parte di qua della parete della via cava questo colombaglio è particolare perché naturalmente adesso in questo momento storico cioè da sempre da quando lo conosco io è molto basso questo non vuol dire che è basso vedete ma accendo forse la torcia però attualmente perché naturalmente c'è tutta terra di riporto che con il tempo passato poi accendo anche la torcia vi faccio vedere anche giù in fondo colombaglio di pianiano riporto con la parte finale attualmente illuminata con i tre lati uno due e tre con tutte queste nicchiette che vedete come sono sfalzate sono sfalzate bellissima e questi sono veramente in poche le persone che la conoscono ma io vi faccio vedere anche questa passa e chiuda grazie a tutti